Minacciato da una banda di bulli e poi derubato del cellulare, vittima di tre ragazzini, tutti di età compresa tra i 13 e i 15 anni, è stato un loro coetaneo che sabato sera ha chiesto aiuto alla polizia. Gli agenti della questura di Arezzo sono subito intervenuti al prato per soccorrere il giovanissimo. I poliziotti hanno poi intercettato gli autori del gesto, ossia i tre ragazzini. Dal racconto della vittima, tuttavia, è emerso un quadro ben più complesso della vicenda. Il ragazzino e il branco si conoscevano già in ambito scolastico e l'episodio non rappresenterebbe un caso isolato, ma inquadrabile in una serie di atti prevaricatori e di bullismo. A seguito della testimonianza raccolta dagli investigatori e degli accertamenti effettuati, è stato così denunciato all'autorità giudiziaria il ragazzo più grande, già noto per analoghi episodi di bullismo ai danni di altri coetanei, mentre per gli altri due ragazzi, minori di 14 anni, è stata fatta una segnalazione al Tribunale dei minori.